Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Nello scorso episodio però ho notato questa cassa e infatti... Ok, così possiamo cominciare con il nostro mercante di russo. Oggi le do il giorno libero, ok? Il giorno libero le do ogni 3 giorni. Lo so sono buono, anzi no. Allora, il suo tempo libero è di 2 ore e mezza, ok? Ok. Queste 3, anzi no, 3 ore, sono buono. 3 ore di tempo libero. Poi si torna al lavoro dalle 8 alle 4. Però all'una ha il tempo libero, all'una fino alle 4. Quindi lei dice l'una. Vedete ragazzi, sono buono con le cose. Le do sempre un po' di pausa. Allora, la paludominicia è dove c'è il boss, però questa è non fatta. Allora, questa è non più completata. Questa la stavo finendo? Fatta, fatta. C'è un po' di pausa. C'è un po' di pausa. C'è un po' di pausa, ragazzi, avete visto? Lì. Che vogliono fare a questi poveri vinci? Che vogliono fare ragazzini? Però questa volta non ci sono villager. Allora, vediamo. Ma no, non ci sono villager, non ci sono villager. Che mi sape? Che mi sape? Che mi sape? Che si può sconfiggere mi sembra un golem di .. seek, non so se è una cordia. C'è una cordia, ma anche nella guerra nemmeno ho un po' di rip Varadita. ok vedete che ha vedete che posso sapere tipo no sbaglia se vuoi ok devo entrare devo andare lì qua aspetta in questo faccio provare ma quanti sono? no faccio di cuore un attimo prendi prendi non riusci a guardare neanche però non vale questi sono troppi ok ok vedete che posso che sia un gioco non riuscire a guardare neanche prendi ti puoi scoprire guardare neanche guarda neanche prendi il gioco guarda neanche guarda neanche guarda neanche ancora? allora aspettiamo ora devo uscire No Dai che devo andare Vai Entriamo Trova i nuclei I nuclei Devo trovare Ma Questo gol è messo in questa rossa? Molto Non sono forzati questi Guardi Di questo Non lo faccio Oh Perché non lo sto mirando? Ok Non riuscivo a prenderlo No 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 Ci vetti Io li odio i ragni No 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 Cavolo Guarda Non te lo sa Perché? Guarda c'è Vai con le Ci diciamo Però Se vado nella rossa È veramente stupido Però Ci sono anche gli altri Non è giusto Ci sono i I due mostri No No Oh Ah 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 Il Prozent Oh Oh Voi al ritorno Sono ritorno Stavo ritorno Ah Vi стали Sureよね Vi Vuoi 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 Vu quo Vuoi 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 Vu ok Vuoi Sto passando Sto passando qui Vai Vai C'è la lampi Dov'è? Ecco Allora Va Venga Vuole Vuole per esplodere Aspetta Non tagliamoci Cavolo Uff Uccidino la carne Uccidino la carne Mi sto intanto Uccidino la carne Ce l'ha con me Ce l'ha con me Ce l'ha con me Ce l'ha con me Oh me l'ha ucciso Oh si Oh si Vuole il golem Muori Ti ho messo a golem Sento Non ci trovare Oh forte 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 Vai Medio Gran mastello Quanto danno fa? 28 danni? E' mio? No Infatti Non ci trovare neanche Non ci trovare neanche Non ci trovare Mi dovrà prendermi Mi dovrà prendermi Va bella Ti avrò Prendi il caccolo Cane Mi serve il cane Mi serve il cane Atacca il cane Ma Attacca il cane Mi serve il cane Attacca il cane Attacca il cane Gli Di Sento Mi serve No Devo uscire quello che Posegge i mostri ragazzi mi fa muovermi perchè non mi posso muovermi perchè non posso muovermi cosa? no aspetta ok ragazzi vi giuro se non sto mentendo prima non potevo muovermi cioè ora voi forse non mi credete ma se io vi facevo vedere il mio joypad non potevo muovermi c'era tipo nooo non mi dire vabbè ok 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 quello che potenzia mosca l'abbiamo fatto ancora ok se il cacciatore è cantato e basta non c'è cacciatore mosca ancora nooo dove prende si devo attaccare dalle flcce devo attaccare dalle flcce devo attaccare dalle flcce muore muore Non ci credo Ok Ok ora sono deboli perché Non hanno più quello che le potenzia Invece si E invece si Basta No 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 Raga però non è giusto Ci sono troppe Sono troppi C'è mi tolgono C'è mi tolgono già che da vita ragazzi Non puoi Non è la bambola non vista Basta Mi sto iniziando a incavolare Devo andare avanti con la missione Eh sì devo sapere No C'è arrivavo fino alla sotto No devo prendermi Devo prendermi un'animatura Forse devo prendermi Addirittura il martello Sì Sì devo prendermi il martello A questo punto sì Prendi questo Tiri sono sì Prendi questo vai 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 Cazzuola Va Il martello non potete nulla Coglio di te No Nulla Vai 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 Più caldo Ancora tiri Prendi questo Vai perchè non me la farò accogliere la mela sono forte ora ho la porzione di forza sono forti i tuppi insieme che il golem di coso sono forti i tuppi insieme che il golem di coso è una battaglia infinita può essere infinita vuoi avere un lieto fine io che vinco è una battaglia 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 va non è forza non è forza non posso scappare non posso scappare da qui dai io sono impegnato però ah ma io devo andare di qua è stupido ma ce ne lava si deve andare di qua forse no aspetta forse era la via giusta forse se faccio così e poi vado avanti di qua ah si si ok c'ho ponte vai c'è un ponte oh oh c'è quello ponte oh i raggi delle penne perciò che sono forti festa 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 si comander bambini le tue gemme ok certi ok ma zero viaggio sui sui danno si ok ho fatto danno ho fatto danno a qualcuno a lui si scorte ok ok oh 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 è morto il mio è morto il mio cane ok ok devo stare attento perchè la c'ho tipo un'onda ahia 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 devo aspettare che arriva il cane perchè il cane mi aiuta dai triangolo triangolo manca poco ok perchè il cane forte guardate 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 ma sono scuola guardate prendi questo vai 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 io ci do moltissimo ok guardate ragazzi non so che sono niente perché ci stanno da tanto ma la missione è finita questa qua facciamo un ponte li tolgo ho la posizione di porta allora c'è un altro no 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 come che era un malediteto non lo stanno no lo devo uccidere ora no quello che è in carta no no i i i i andiamo fuori non ci posso andare guardi vieni qua ok vieni mi vuole fare scuola cavolo no 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 il paccato si vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ma noni non no no ma no in effetti mi hanno schermato non era uno ma erano due ora muovi dai dai aio mi sono fatto malissimo però era un metodo di livello allora devo aspettare che mi devo curare il cane il cane allora ok il cane è lì ok devo alimentare un altro questo questo ok ha alimentato gli altri fogli che mi sta accendendo ha alimentato questo ok 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 qui era dove c'erano i corpi di pena rossa ok 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 scusate che è stato no ok 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 qui. Quanto? 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 127? 127 a distanza? Fanno come distanza. Allora voglio usare forza, devo alimentare anche questo, attenzione. Ok. Quanto è interessante? Ok Ok Via, 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 via Ok Ci dà la Forgia Perché c'è un'allarme? Voglio fucire Vedete la sensazione che ci saranno in boscata No, è un evocatore Sono le mosse Non sono le mosse, non posso farlo Figgeremo 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 È Scharremo È rai Grazie Pagniasss T'è volent Há' di un canto C'è natura Ok quella faccia si è buggata no aspetta devo vincularmi un attimo un attimo di pazienza prendo questo cavolo 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 ok dai 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 no mi hanno ucciso il cane non 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 mi hanno ucciso il cane vai port Galaxy questo lo voglio facciare le quattore questo lo voglio facciare le quattore le devono 7 non 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 nono no no tolto ora la cucina di cura è lenta non posso morire ora se muoio ora mi sa che ritornò al campo Vabbè come fanno ad essere così veloci? Vabbè Loro che sono grossi Con un'armatura enorme Sono così veloci? Non penso Ecco l'evolucatore Non male però Perché io ho paura di volere Faccio così ragazzi Se voi ora Mi sento ritorno al campo Per fare la missione Io non la voglia Ok 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 Mi sento l'evolucatore L'evolucatore Cavolo Ma pure in questo? Voglio l'evolucatore Ragazzi sto studiando Cavolo Dov'è l'evolucatore che lo voglio uccidere? Dov'è l'evolucatore che lo voglio uccidere? Ehm No Ma che è l'evolucatore invisibile? Guardi No Ragazzi Ragazzi praticamente io sto tornando indietro non c'erano prima non c'erano non c'erano prima no 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 lo sapevo lo sapevo che cosa no 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 ci muoio ragazzi ma cosa sono questi? scusa scusa ma non c'erano me? no ma dimostro come si fa? che è successo? che è successo? come sono morto? no non c'erano me? 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 no attiva no come game over? che senso? qui mi stavo curando perché non mi facevas la porzione di cura? no non ci posso non ci ma la devo fare l'ho fatta l'ho fatta vabbè ragazzi un po' la missione l'ho finita perché non l'ho finita è vero ragazzi non l'ho finita ok non l'ho finita perché missione segreta allora non l'ho finita però diciamo se sconfiggete quel golem potete andare via e finire la missione se vi c'è il video metto un bel ciò in su questo video è durato 34 minuti anzi 35 se vi c'è il video metto un bel ciò in su da me è tutto e io saluto ragazzi ci vediamo un prossimo episodio il prossimo episodio sarà del tempio ciao 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 Grazie.